RINNOVATO IL CONTRATTO REGIONALE RINNOVATO IL CONTRATTO REGIONALE dei lavoratori edili, che riguarda circa 16.000 addetti. L'ultimo rinnovo risaliva al 2015 e la pandemia ha fatto slittare ulteriormente i tempi. Il contratto, oltre ad un aumento del premio mensile, introduce tra le altre cose un'indennità di guida, l'integrazione congedi parentali. Le parti firmatari hanno condiviso inoltre di avviare percorsi premianti per chi rispetta regole e contratti e per chi ha maggiore attenzione alla sicurezza, sostegni economici a chi assume giovani. Tramite gli enti bilaterali è stato anche introdotto un fondo specifico per sostenere prestazioni di vario genere ai datori di lavoro. Ci siamo allineati con grande senso di responsabilità rispetto ai parametri che l'edilizia ha rappresentato nell'anno scorso, nel 2021, dove vedevano tutti gli indicatori con una interessante crescita, addirittura si parla di un aumento della massa salaria del 30%. Questo ha determinato effettivamente un riconoscimento anche per i nostri addetti, per i nostri lavoratori, un adeguamento del salario in base a questo tipo di percentuali che si sono verificati. Si è dato importanza anche al valore dell'imprenditore artigiano perché abbiamo stabilito un principio che tramite i nostri enti bilaterali una parte delle risorse che mensilmente i datori di lavoro versano all'interno delle casse edili poi verranno ristornati direttamente ai datori di lavoro per esigenze che andranno poi definite in seguito. I 16.000 lavoratori edili delle imprese artigiane toscane sono una fetta importante degli addetti del settore perché rappresentano la metà del totale. Questo è un segnale molto importante perché siamo intorno al 50, forse qualcosina in più dell'intero comparto edile e quindi è un segnale che noi rivolgiamo anche al potere decisorio perché nelle politiche, nelle strategie si tenga conto di questa realtà che purtroppo, non lo so come mai, è sempre pensata come una realtà piccola che non può agire, magari non si può inserire anche in lavori impegnativi però l'impresa artigiana in questo momento è cambiata. Io la vorrei definire un'impresa artigiana 4.0 organizzata, competente e con un occhio al futuro soprattutto nel campo della sostenibilità. Il 2021, anche grazie ai vari bonus, è stato un anno molto positivo per l'edilizia mentre il 2022 è partito con aspettative meno entusiasmanti, complici un clima di incertezza e instabilità generale e rincari delle materie prime e dei costi energetici. Io in una battuta potrei dire che quando c'è crisi di imprenditore artigiano si mette sulle proprie spalle anche le difficoltà del sistema, dei propri dipendenti, non andando ad attaccare il salario e quando le cose vanno bene immediatamente allarga questo beneficio perché lavorando spalla a spalla con i propri dipendenti ne capisce le necessità e oggettivamente ritiene giusto riconoscere in un momento di euforia o magari in un momento di che il trend è positivo anche il salario di conseguenza giustificato. Un premio tra tradizione e innovazione. Le aziende artigiane saranno protagoniste del futuro. Ne è certo Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato, intervenuto alla prima edizione del premio Confartigianato Prato Tradizione e Innovazione tenutosi al Museo del Tessuto dove quattro aziende associate hanno ricevuto altrettanti riconoscimenti. Un futuro che per Granelli deve guardare sempre più all'aggregazione. Quello che io mi auguro che ci possa essere ed è un messaggio che da qualche tempo cerco di lanciare è quello dell'aggregazione. Oggi siamo in un mercato che comunque è sempre competitivo, molto globalizzato per cui oggi diciamo che piccolo e bello ma insieme meglio. Per cui la mia organizzazione, Confartigianato fa di tutto per favorire questo. Siamo stati nel dopoguerra dei grandi individualisti, dei grandi solisti oggi dobbiamo imparare a diventare dei bravi orchestrali. Per il presidente di Confartigianato Prato Luca Giusti, tradizione e innovazione sono due sostantivi che raccontano bene la nostra realtà produttiva e il premio rappresenta un momento di speranza e di rinascita. Credo che Prato si incarni veramente attraverso proprio questi esempi che noi abbiamo portato in questa occasione, in questo evento si incarni bene in questi due termini di tradizione e di innovazione di tradizione che rappresenta appunto quello che è il passato quello che è stato il nostro passato attraverso figure così particolari come quelle che abbiamo avuto il piacere di conoscere oggi e innovazione perché proiettati al futuro e cioè un qualcosa che guarda verso il futuro attraverso aziende che hanno caratteristiche che credo non tutti si aspettavano di trovare sul nostro territorio. Il premio Confartigianato Prato tradizione è stato consegnato ad Andrea Merighi ora fu maestro artigiano nella cui bottega laboratorio nella centralissima via Magnolfi e crea gioielli di rara bellezza. I lavori artigianali in generale penso siano una cosa bellissima forse tutti dovrebbero fare gli artigiani e io spesso mi ripeto ma la settimana per me il lunedì è veramente uguale al venerdì e è una fortuna per me perché il lavoro è passione e avvincente perché è una sfida anche con te stesso. Il premio Confartigianato Prato Innovazione è andato invece all'azienda Iles nata alla fine degli anni 70 come unico produttore del centro Italia di impianti semaforici e che oggi realizza dispositivi di sicurezza di alta tecnologia sia in ambito pubblico che privato. È una grossa soddisfazione perché è appunto un'azienda piccola perché comunque siamo una ventina di persone all'interno di Iles ma siamo una piccola realtà nel territorio è fonte di orgoglio per noi per aver ricevuto questo premio e quindi un grande ringraziamento anche a tutta la famiglia Confartigianato. Sono state poi premiate due aziende che hanno mostrato fedeltà e fiducia a Confartigianato la prima la tessitura di Wolfrano Berzotti scritta da oltre 50 anni a Confartigianato e l'altra la giovane fotografa Michela Moschetti che ha recentemente scelto Confartigianato e Imprese Prato come partner della sua carriera imprenditoriale. Quando mi iscrissi a Confartigianato e ben volentieri ovviamente cioè speravo anche in un futuro perché le dico una cosa semplicissima nel 78 mi sposai con una moglie incinta con due telai da pagare mi sono tirato sui figlioli non sono andate tutte senza problemi di niente ora magari con dieci telai duri fatica a sopravvivere purtroppo in quei tempi c'era da credici e ci credo ancora anche ai giovani di oggi vi dico anche abbiate fiducia cioè cercate di come si dice di avere voglia di sacrificarvi il mio sogno più grande sarebbe anche non solo studio fotografico ma anche scuola di fotografia dove proprio le persone avranno la possibilità di toccare tutti gli strumenti di lavorare a livello pratico avendo io comunque fatto una scuola di fotografia in cui sì abbiamo fatto molta pratica ma riconosco che veramente è un lavoro che richiede molto più tempo per essere imparato e allora sì sarebbe il sogno più grande sarebbe uno studio fotografico ma anche una situazione lavorativa condivisa quindi dove ci possono venire anche fotografi da fuori altre persone con scrivanie e lavorare tutti insieme confartigianato aiuta la mensa alla pira è un'amicizia che dura da oltre 20 anni quella che lega confartigianato in prese Prato e la mensa alla pira un rapporto stretto che ogni anno distribuisce dai 50 ai 60 mila pasti alle persone bisognose della città di Prato il presidente Luca Giusti ha consegnato alla presidente della mensa alla pira Elena Pieralli il ricavato della raccolta che ogni anno confartigianato organizza in occasione della tradizionale cena natalizia nei locali della mensa e quanto raccolto con il conto corrente dedicato rimasto aperto fino a qualche giorno fa si tratta di circa 3.000 euro che contribuiranno all'impegno quotidiano dei volontari della mensa è un'iniziativa che ha oltre un ventennio di vita e che ha come obiettivo quello di essere vicini a chi opera tutti i giorni 365 giorni l'anno che opera per sostenere coloro che sono in difficoltà con un servizio in cui non possiamo che elogiare per cui confartigianato che si è resa sensibile che è stata sensibilizzata su questo tema e che ha sensibilizzato i suoi associati e non solo ogni anno con questa iniziativa cerca di portare quel poco di contributo ma credo che comunque sia un gesto che dovrebbe far riflettere molti questo poco contributo che serve probabilmente ad aiutare questa grande iniziativa Qui abbiamo proprio l'appoggio di un'associazione importantissima ovviamente in città che riunisce persone che comunque vivono anche se ovviamente in maniera completamente diversa dei momenti di difficoltà dei momenti dove veramente si sente e si continua a sentire la crisi quindi io lo definirei proprio lo definirei un rapporto d'amicizia un rapporto d'amicizia sincera da parte di confartigianato e di amicizia grata da parte dell'associazione Giorgio Lapira perché il contributo arriva e arriva anche questo insieme al contributo questo aspetto di fedeltà che è importantissimo per noi Grazie a tutti